Vi presento Dapur. Frequenta il Flight Adventist College in India. Una delle attività preferite nel campus è la pallavolo. Ognuno vi si unisce con gioia, perfino il direttore dell'istituto. Dapur studia teologia con la speranza di diventare un giorno un pastore avventista, ma non è sempre stato avventista. Prima di essere avventista Dapur andava da casa sua al villaggio vicino per andare a trovare un amico avventista. Discutevano di religione e Dapur cercava sempre di trovare una pecca nel messaggio avventista. Un giorno discussero del sabato e Dapur capì che non aveva trovato tutte le risposte. Decise di studiare l'argomento per conto suo e dedicare un po' di tempo alla preghiera. Dopo uno studio attento era giunto alla convinzione che il messaggio avventista era vero. Non poteva tenere tutto questo per sé, quindi decise di trasmettere a ogni abitante del villaggio la buona notizia che aveva scoperto nella Bibbia. Dapur andò di casa in casa per parlare del sabato alle famiglie. Alcune sembravano dimostrare un certo interesse, ma non tutte erano aperte a questa nuova credenza. Il capo del villaggio gli disse che se voleva diventare un avventista non poteva più far parte del paese. Era molto rattristato, ma alla fine prese la decisione più importante della sua vita. Fu costretto ad abbandonare il suo villaggio. Si recò alla stazione ferroviaria per trovare un posto in cui andare. Mentre era in stazione incontrò un ragazzo della sua età e iniziò a parlare con lui e scoprì che era un avventista. Non poteva crederci. Il suo nuovo amico gli disse che stava andando al Flight Adventist College per studiare teologia. Dapur pregò e sentì che Dio lo stava chiamando per andare anche lui. I due ragazzi presero il treno, l'autobus e viaggiarono insieme per una settimana per raggiungere il seminario Flights. Ora Dapur è felice di frequentare il corso di teologia. Ha imparato tante cose sulla Bibbia. Ha conosciuto amici che si aiutano a vicenda nello studio della scrittura. Molti di questi studenti hanno viaggiato da molto lontano per ricevere un'istruzione avventista di qualità. Benché la decisione di lasciare la famiglia non fosse stata semplice, Dapur sapeva che Dio avrebbe ricompensato la sua fede. Pregate per Dapur e gli altri studenti del Flights. Grazie per il vostro sostegno.